Dopo un lungo percorso avviato già nella scorsa legislatura, finalmente la nostra proposta di reintegro della concessione dell'autostrada 2425 alla Società Strada dei Parchi è stata accolta. L'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, che ha cancellato la revoca della concessione al gruppo Toto, è una vittoria di Forza Italia che per prima si è battuta per sanare questo vulnus. Lo ha dichiarato il Presidente della prima Commissione Affari Costituzionali della Camera, coordinatore di Forza Italia in Abruzzo, Nazario Pagano, ricordando che nella scorsa legislatura fu tra i pochi a prendere la parola in Senato per opporsi alla revoca. E intanto, in vista del Congresso nazionale in programma nel prossimo mese di febbraio, in Abruzzo il partito prepara i congressi provinciali per eleggere i delegati e mettere a punto la campagna elettorale per le regionali ed amministrative. A Pescara, il deputato e coordinatore degli Azzurri, Nazario Pagano, alla presenza dei commissari provinciali ha annunciato le date dei congressi. Il 15 dicembre a Teramo, il 16 a Pescara e a Chieti e il 17 all'Aquila. Dopo la scomparsa del nostro leader Berlusconi non si era mai sentita forse la necessità di strutturare il partito anche a livello territoriale. Adesso con Tajani si è voluto dare questa indicazione giusta, corretta. Stiamo diventando un partito più di tipo tradizionale, quindi iscritti, congressi, coordinatori provinciali. Si eleggiano anche i delegati al Congresso nazionale che saranno per la precisione 6 all'Aquila, 6 a Chieti e 5 a Teramo e 5 a Pescara. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati altri nuovi ingressi. Segmento politico, la parte politica che noi rappresentiamo, cioè quella valoriale, quella legata ai nostri principi e valori liberali di garantismo, di atlantismo, di europeismo, stanno piacendo moltissimo e anche a livello territoriale forse la conduzione del nostro partito, l'armonia che regna fra i nostri eletti, i nostri iscritti, i nostri dirigenti piace moltissimo e devo dire che io ogni settimana ricevo richieste di adesione e ne annuncerò altre nelle prossime ore, nei prossimi giorni.